Ciao, oggi andremo a fare i tortellini di Mantova, un primo piatto vanto della città del Gozaga. Andiamo ad eseguire. Ingredienti Zucca, mostarda di pere, amaretti, grana padano, un uovo, della noce moscata e sale quanto basta. Cucineremo la nostra zucca al forno. Tritiamo gli amaretti e riduciamo a pezzettini la pera. Una volta cotta la zucca la passeremo in uno schiacciapatati. Ecco siamo arrivati all'ultimo pezzo e questo vi garantisco che è un lavoro che mi è proprio antipatico. Ecco qua, abbiamo finito. Aggiungeremo le pere e gli amaretti, il grana, la noce moscata a piacere e un pizzico di sale. Prepareremo ora la pasta per 100 grammi di farina o un uovo. Tireremo la sfoglia con la macchina. Aggiungeremo il ripieno. Pressiamo bene i bordi per far aderire la pasta. Ed ora non mi rimane che augurarvi buon appetito! Annette del cartone, un buone il ripieno. Non mi rimane che ing are 0.